Amici e amiche bentornati, ci troviamo di nuovo qui su Forseclim Manager 2023 con la nostra carriera, con la Liquigas, finalmente torniamo in video ragazzi, finalmente perché abbiamo fatto un po' di live, le trovate ovviamente sul canale da un po' che però, in causa di forza maggiore, non sto riuscendo a fare live, quindi io vi avevo promesso che avremmo visto qualcosa insieme alla nostra Liquigas, a livello di sponsor siamo messi benissimo perché abbiamo un grande successo, perché abbiamo raggiunto la vittoria di tappa alla settimana internazionale Coppie Bartali, abbiamo fatto quasi bene al giro di Sicilia, siamo andati mi sembra secondi, questo l'abbiamo fatto in live e più in generale abbiamo comunque fatto e buttato tutti i vari risultati, vedete qua a vittoria di tappa siamo andati top 3 in una tappa, top 10 nel giro della città metropolitana di Reggio Calabria l'abbiamo fatto, quindi insomma già aver raggiunto questi tre successi è a posto, la vittoria di tappa a Tour of the Alps sarà molto complicata perché è una Pro 2, quindi ci saranno tanti grandi squadre, tante grande squadre, noi però non perdiamo molto tempo, vedremo gli arrivi di tutte e cinque le tappe ovviamente, mettiamo il nostro unico medico, la squadra è abbastanza normale come morale, abbiamo, mettiamoli in ordine di valutazione, Ricchezza di Maximiliano non ci sarà perché deve fare i campionati argentini, quindi non ci sarà, c'è Ravanelli Simone, Cimi Merio, Alejandro Osorio, Alexis Bonel, Chevalier Maxime, Filosi Yuri e avevo messo Marengo che non mi ha preso, prendo più gente brava in collina, porto soltanto Cimi Merio che come sprint insieme a Filosi può fare bene perché diciamo c'è praticamente mezzo arrivo per gli sprinter, quindi va bene la prima tappa infatti è un arrivo dritto ma è abbastanza movimentato, c'è una mini sezione di pavè, qua mi diceva, non credo, sia sterrato il Merio Cima è in picco di forma, il picco di forma sta per terminare credo per quanto riguarda Marengo Umberto, sono un po' più indietro ma la freschezza è abbastanza messa bene, Filosi Yuri non è messo benissimo in freschezza, quindi magari potrei pensare di lasciarlo a casa eh però no, però no, è l'unico che in montagna, in vede montagna e collina può fare bene, c'è giusto Orrico, no, preferisco portarmelo dietro chiaramente qua vedete chi c'è, i favoriti di giornata sono Covi, Hater, Pello Bilbao, Ulissi, Ciccone, Kiatowski, Skaroni, Caruso, Fraile e Bax quindi sarà un po' complicato, per questo che vi dico la vittoria di tappa sarà molto difficile ottenerla vediamo, vediamo, non concorrerei per altri traguardi come quella della classifica punti, della Giovani Ciclisti o la classifica generale non credo, cioè qui serve il nostro Osorio messo meglio per riuscire a gestire una cosa del genere, sarà molto complicato sarà molto complicato, non ci sono enormi avversari ma ci sono un paio di team importanti e un paio di anche dia Viviani non è un buon cliente da trovarsi davanti, quindi insomma dobbiamo un po' gestire quello che succederà io vi do appuntamento se non succede nulla di strano gli ultimi chilometri, non siamo i favoriti, i favoriti sono gente brava in pianura, nelle colline e nelle accelerazioni noi potremo provare a vedere se Imerio è in formissima a gestire Alexis Brunel non è in forma ma gli dobbiamo fare un po' di corsa perché effettivamente lui è arrivato praticamente non dopo un infortunio quindi deve correre detto questo F6, F6, stoppiamo e ci vediamo all'arrivo della tappa ok ragazzi siamo arrivati praticamente agli ultimi 8 km, sono in pausa per dirvi una semplice cosa purtroppo Aldo Osorio è caduto, Alejandro Osorio non Aldo, per me, è caduto perché purtroppo è la sfiga con un po' di gente quindi si dovrà stare tranquillo e sereno un po' più dietro noi con il nostro Cima siamo un pelino in difficoltà perché siamo molto indietro dobbiamo cercare di risalire la china devi andare davanti perché mancano pochi chilometri, ne mancano veramente pochi e c'è un'ultima piccola asperità che deve affrontare assolutamente davanti più che altro perché dura poco e potrebbe fare una selezione improvvisa la fuga è stata riassorbita adesso adesso Brunel ha dato quello che poteva, io direi sinceramente di metterlo dietro a Ravanelli il quale deve già andare a 2000 perché siamo praticamente arrivati eh sì, siamo rimasti un po' più indietro purtroppo con Filosi però è davanti, Filosi davanti e ci prova Filosi davanti e ci prova, vediamo se riesce, no si pianta purtroppo Calzoni vince davanti a Bax le covi, Calzoni forse è riuscito ad andare in fuga sul finale e purtroppo noi siamo stati, allora le strade molto strette, molto strette e il percorso questa salitina finale a Hotting ci ha veramente fregato però ci abbiamo provato, era difficile arrivare con i velocisti e infatti sono arrivati un po' tutti spezzettati come vedete quindi ok, prima tappa andata, ci abbiamo provato adesso a questo punto aspettiamo che arrivino tutti, andiamo subito ai risultati non aspettiamo altro, quindi ok, Calzoni Walter insomma della squadra di Vincenzo Nibali tra l'altro, bene, ok 3 della team Ue, Covi, Bax e Ulissi c'è anche Chiatowski, insomma fortunato, sono squadre e nomi importanti quindi è un po' complicato, è un po' complicato ci possiamo provare ah, è vero, c'è il campionato nazionale del nostro Maximiliano Ricchezze che è da solo ed è uno dei favoriti facciamo così, che ci vediamo verso il fine ci vediamo proprio alla fine, fine, fine vediamo com'è andato, vediamo com'è andato ragazzi, prendo una linea circa 6 in ordine all'arrivo come vedete il gruppo non sta tirando nessun'ora a prova qualcuno a fare la fuga va anche Sepulveda io non posso lasciarli sinceramente andare via perché secondo me Sepulveda è un uomo pericoloso però effettivamente il gruppo sta facendo un buon lavoro stanno andando tutti a prenderli ora 3 km dall'arrivo prendiamo il gelino non ho idea di chi debba marcare per lo sprint non sono stato attento a vedere chi fossero i favoriti con te forse prima metterci dietro di lui a questo punto però questi rischiano di andare, occhio e sono andati però non li ha presi nessuno non li ha presi nessuno andiamo che con ricchezze non riusciamo a diventare campioni di Argentina beh per il semplice fatto che eravamo da soli questi campionati quando sono in pochi a competere diventa difficile se si è da soli va bene vince Eduardo Sepulveda dell'otto Destiny davanti a Rosas, Godillo, Oma Juarez noi siamo arrivati boh decimi probabilmente loro sono partiti in anticipo speravo che ne andassero a prendere non li facessero fare il buco dovevamo seguire Sepulveda la mia idea è quella giusta l'iniziale nessun problema il nostro il nostro Maximiliano tornerà a casa nimmen che non si dica ora testa la seconda tappa del Tour of the Hubs che da qui vedete è una tappa di più o meno montagna vediamo cosa riuscirà a fare il nostro Alecandosorio la vedo un po' complicata però vediamo tanto abbiamo vinto un bonus di partecipazione da quello che vedo che sono ben 150 euro brutale via bravo guadagnati messi nelle tasche nelle casse della nostra squadra no continua andiamo a vedere cosa ci tocca qui ok molto interessante per io vi provo Ciccone, Garuso, Fortunato, Gatosky, Eterolissimi Juanpe Lopez e Brandon McNulty scusatemi io sinceramente con con Alejandro Rosario che pure è caduto non so cosa che potremmo fare sinceramente non lo so Alejandro Rosario è leader ovviamente per la classifica generale spingi se sei involata segui gli attacchi gli altri lo seguono come Gregari Ravanelli e Brunel sono liberi battitori io penso che prenderemo i contatti alla fine proprio dell'ultima salita quindi praticamente quando ci troveremo già all'arrivo perché in questo Tour of the Alps il livello è ancora e inizia già a essere troppo ok anche delle altre squadre della Coratec la Colpac la Zaffero Mobile fanno un po' da comprimari davanti a Bahrain Victorious Trex Gaffredo ma che Ratelli del Trek e tante altre squadre come la UAE cioè diventa complicato sono due livelli di distanza si vedono si vedono tutti nel mente che la mia sedia si spacca e noi ci vediamo all'arrivo ragazzi ragazzi siamo gli ultimissimi chilometri praticamente questo è il triangolino dell'ultimo chilometro c'è Damiano Caruso che è riuscito a sorprendere un po' tutti noi con uno Zorio in meno 3 siamo riusciti a stare più o meno in corsa quindi sono abbastanza contento abbiamo provato anche a fare una fuga con a un certo punto con il nostro Chevalier che ha provato quanto più possibile a fare il possibile lanciamo Ravanelli diciamo che la vittoria è andata a Damiano Caruso davanti a Ulissi Fortunato Pelo Bibao Battistella Cazzoni Bais Covilli Covilli giudatemi Giulio Ciccone sono nono Damien Ousen è arrivato decimo noi siamo arrivati ventottesimo con Ravanelli e soltanto trentaduesimi con il nostro il nostro Aleandro Osorio purtroppo il livello è questo non è non è il nostro livello ci siamo visti andando in fuga con il nostro Chevalier abbiamo un po' combattuto su questi GPM abbiamo preso qualche punticino niente di più diciamo ragazzi abbiamo proprio provato a vedere ma c'è anche contro Brandon McNulty è proprio qualcosa di complicato ecco decisamente complicato alto livello alto livello quindi ci sta infatti è strano che mi abbia chiesto di una vittoria di tappa lo sponsor qui è veramente complicato è veramente impossibile quasi devono allinearsi tante cose tanti fattori le fughe poi non vanno sempre a buon fine non sono mai troppo supportate questa è un'altra tappa di media montagna con dei picchi importanti noi abbiamo una motivazione che già non è al top e media la freschezza che non è al top pure qua quindi siamo noni appunto con Maximo Chevalier ha preso qualche punto negra prima della montagna niente di che i soliti i soliti noti quindi direi ragazzi che lasciamo tutto così potremmo arrivare a fare una una rivolata con il nostro cima però anche in quel caso lì secondo me Bahrain Astana Ineos UAE Lidl Trek Segafredo sono squadre che hanno secondo me ciclisti più forti in tutti gli ambiti quindi noi ci vediamo alla rima che di questa tappa ragazzi oggi è una giornata di fuga ragazzi sono andati in fuga in dundici sono arrivati in sette il gruppo se ne è sbattuto ampiamente bene direi noi con Alejandro Osorio abbiamo provato a fare una fughina finale per cercare di poterare quanto più possibile arriviamo insieme a tutti gli altri che però hanno perso non è perso talmente tanto tempo che la maglia del leader ha cambiato ha cambiato il padrone non ne sono sicuro non ne sono sicuro adesso andiamo a vedere nella pagina di ricapitolo della tappa di noi si è staccato soltanto Filosi che purtroppo ha avuto una giornata difficile l'ultimo ad arrivare ma come al solito delle difficoltà trovare il il cursore che è piccolo così ed è lo stesso colore dei tasti annaggia a voi allora vediamo globale no 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 in realtà no però tipo pesenti no vabbè in realtà erano talmente lontani che li hanno fatti andare via per quel motivo lì vabbè peccato perché avevamo tutti belli in forma ma non pensavo che la fuga fosse vittoriosa giustamente quando penso che la fuga non arrivi in fondo arrivi in fondo quindi questa era una prova del 9 volevo vedere se effettivamente le fughe erano state nerfate dipende dipende questa è una tappa importante c'è la salita passo campo carlo magno con boni prati anche l'arrivo in fondo a valle del chiese con anche quest'altra salita che non è un gpm ok tappa probabilmente l'unico dei nostri che può far qualcosa è androsorio ma sarà molto difficile per lui vediamo un attimo dicono i giornalici giulio ciccone damiano caruso quella gente lì beh 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 questa 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 tappa in là l'avremmo vista commentata molto tranquillamente e parlato del più del meno perché effettivamente ragazzi queste tappe queste corse qua veniamo cioè vi partecipiamo proviamo proviamo a fare qualche risultato ma boh non lo so vediamo se possiamo mandare qualcuno dei nostri in fuga se eventualmente le androsorio un più un più cinque prova mandarlo nella fuga di giornata prova a farlo resistere nella fuga di giornata giusto per provare a far qualcosa ma sono nomi con valori veramente fuori scala come chiedono una squadra di serie c di partecipare a cinque giornate di serie a di vincere almeno una partita per uno scatto di 3 a 0 somma difficile difficile i valori sono quelli che sono rosorio a meno 3 doveva avere più 3 e quindi niente ragazzi ci vediamo in fondo alla tappa so già che non succederà nulla ragazzi prendo una linea a 6 7 km dall'arrivo con il nostro simone ravanelli che è praticamente l'ultimo più il nostro uomo più avanzato ovviamente qua siamo in una condizione di totale abbandono perché purtroppo così è andata ci abbiamo provato e l'arrivo è impicchiata letteralmente impicchiata la tappa la quale tappa numero 4 del tour of the ups vinta da fortunato davanti a calzoni Ethan Hater e Gio Dombrowski con Luca Covilli che chiude la top 10 la top 5 noi con Lorenzo con Simone Ravanelli proviamo a recuperare un po' di posizione andando giù a Cannone vediamo riusciamo arrivare davanti a questo gruppetto si molto bene bravissimo Ravanelli arrivato sedicesimo veramente andato bravo anche ancora bravissimo Chevalier che è andato in fuga nuovamente nonostante tutto forse è preso qualche punto della classifica scalatori mentre molto male Alejandro Osorio perché era in grossa difficoltà purtroppo ci ha provato ci ha provato a rimanere attaccato al gruppo dei migliori non ce l'ha fatta quindi male però questo potevamo fare con gli avversari che avevamo oggi sono andati veramente a una velocità incredibile essere arrivato davanti a Chiatoschi e a Caruso con il nostro Simone Ravanelli è tanta roba posso dirlo è tanta roba sono molto contento sono molto contento perché era effettivamente l'uomo che un pochino poteva fare la differenza nelle salite un po' più brevi di queste queste qua sono salite molto impegnative e effettivamente però ha fatto bene è riuscito a rimanere con i migliori quindi meglio per lui Cima chiude ultimo perché vabbè un velocista qui poteva solo che soffrire ma in realtà era quasi stato quasi inutile portarlo perché non so la prossima tappa cosa potrebbe riservarci tanto Lorenzo Fortunato dell'Aeolo Cometa si porta a casa per adesso la classifica generale la maglia di leader provvisoria con Diego Lissi lì attaccato il nostro Ravanelli Simone fa un balzo in 95 posizioni 23esimo la classifica scalatori scivallie si fa altri tre punti tre posizioni ed è decimo Lorenzo Fortunato è davanti a 16 punti non è troppo lontano non è troppo lontano vediamo cosa riusciamo a combinare nell'ultima tappa di questo Tour of the Alps che è anche l'ultima tappa di questo episodio episodio un po' d'accollante tra le live probabilmente continueremo a fare altre live per quanto riguarda il questo diciamo la liquigas perché secondo me è importante sempre i soliti direi che c'è il Passo Durand che dà dieci punti e il Lago di Tenno che ne dà sei dato che noi siamo dietro sei punti da Lorenzo Fortunato con Maxime Chevalier proveremo quanto meno a fare un risultato per quanto riguarda la classifica scalatori siamo sesti possiamo provarci è stanco è stanco perché è andato in fuga tre giorni su quattro questo siamo al quinto e sarebbe quattro giorni su cinque quindi sempre in fuga il nostro Maxime Chevalier quindi insomma tanto lavoro per lui effettivamente vedete come anche migliori ciclisti Ravanelli è davanti a Osorio cima è stato veramente inutile abbiamo fatto fare una fatica in più per una semplice tappa che poi alla fine era la prima che ci abbiamo provato e potremmo anche farlo ritirare eventualmente c'è questa possibilità che non dobbiamo dimenticare comunque noi ci vediamo verso se riesco ad andare in fuga verso i vari GPM questi due se non riesco ad andare in fuga vi vedrete praticamente alla discesa tratto finale che potrebbe essere interessante per il nostro Ravanelli why not ok per dovere di cronaca prendo la linea proprio all'inizio del primo capito della montagna scivoli ha fatto una fatica incredibile ad andare in fuga stranamente perché ovviamente prima che prende spazio nel gruppo ci sono voluti 10 ore e quindi questi sono andati e quindi sogni di gloria addio facciamo aspettare l'arrivo del del gruppo andiamo piano 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 e e quando arriva il gruppo ok si rimette diciamo normale e noi a questo punto puntiamo con un Ravanelli che è un onestissimo un onestissimo più 3 puntiamo a stare davanti e provare a vedere di non far andare troppo lontana la fuga ma come minimo adesso oggi che non siamo riusciti ad andare in fuga per i noti problemi di ingorgo pre partenza arriverà la fuga e ci niente ci divertiremo insomma ci vediamo all'arrivo ragazzi ok ragazzi ci ricolleghiamo in picchiata negli ultimi 8 km 9 km perché sono tutti in discesa che Ravanelli è riuscito a rimanere col gruppo dei migliori abbiamo 29 secondi 30 secondi di ritardo dai primi che sono fortunati che sono scattati verso la fine della cima noi eravamo già molto in difficoltà Ravanelli ha anche un buon dicesista un 73 più 3 quindi va un 76 onesto tutti qua roba roba rando c'è Giulio Ciccone che ci segue noi ovviamente abbiamo finito di andare in scatto lo sa il signore per quale motivo vogliamo andare giù ancora aggressivi abbiamo 30 secondi forse sono troppi su qua davanti non sono troppo lontani credici 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 prendi gelino prendi gelino ovviamente l'arrivo è finito addirittura andiamo in scatto prestissimo cosa ci farà morire chiaramente ci proviamo però insomma fortunato vince su De Carlo Dombrowski Chiatowski Ciccone ci superano proprio all'arrivo però un'onestissima sesta piazza per il nostro Samuele Simone Ravanelli che batte anche il signor nomi come Ethan Hater come Pejo Bilbao Damiano Caruso Diego Ulissi Brandon McNulty insomma è stato veramente molto bravo noi ora proviamo a diciamo far fare una figura meno barbina Leandro Osorio e anche al nostro Cima quanto meno ok vabbè e comunque insomma ci abbiamo provato erano veramente troppo andati troppo 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 andati non ha provato a tirare una volata lunghissima con tutte queste curve era anche fattibile in realtà Cima conclude con un'onestissima sessantasedesima posizione Cevallier che ha provato fino all'ultimo a fare una cosa interessante ci ha provato insomma ha provato a portare a casa qualche punto della classe via scalatori non ci siamo riusciti perché è stato impossibile chiaramente perché se ha mai che riusciamo ad andare in una fuga comunque tappa finale quindi con Simone Ravanelli che ha fatto 5 posizioni e conclude il diciottesimo con Cevallier che non fa punti e finisce ottavo con Roberto Gonzales il panamaense che riesce ad andare avanti e fa delle MGKVS classifica giovani non ci siamo classifica squadre siamo a metà decimi 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 quindi va bene va bene insomma dietro a nomi ben più prestigiosi ci sta noi abbiamo finito per l'episodio di oggi ovviamente siamo solo il 21 di aprile quindi siamo neanche a metà stagione guardate quante corse quante corse ci sono davanti ora io probabilmente andiamo a vedere insieme gli obiettivi perché mi interessa vedere gli obiettivi il prossimo addirittura settembre ok mentre il prossimo di così è il 27 di maggio la due giorni marchigiana GP Santarita seguito poi dal trofeo città di Castelfidardo però sono una stella e mezza stella il nostro sponsor comunque è in grande successo noi facciamo andare avanti un'altra giornata queste che cade sono i pezzi della mia sedia ormai sta andando tutta ramengo assolutamente che è caduto giustamente non sta bene ottimo stato di salute no due o tre giorni niente di che bonus vinto 800 euro bene preparazione del tour de France direi che lasciamo perdere la fraccia a ballone è vinta da Jonas Wienegaard davanti a Formula bravo e Wout van Aert noi vediamo com'è il nostro sponsor è sempre in grande successo io direi che molto probabilmente andrà in grande successo fino alla fine e quindi avremo un aumento sostanziale del budget che da 72 mila euro al mese e siamo già un pelino fuori budget in questo momento spendiamo più di quanto guadagniamo ma veramente poco andiamo a 90 mila questo ci libera almeno un 10 mila euro per prendere gente importante vediamo vediamo noi probabilmente con la liquida liquigas ci rivedremo in live quindi state mi raccomando attenti lasciate come al solito il mi piace se non l'avete ancora fatto l'iscrizione e attivate la campanellina per essere sempre avvisati di ogni video e di ogni live detto questo noi ci vediamo alla prossima ragazzi ciao a tutti